Marco D'Alessandro, nuovo appuntamento allo store con voi giocatori dell'Atalanta, è un altro pomeriggio di festa insieme ai bambini e questo forse è l'aspetto più bello, che piace di più anche a voi? Sì, sicuramente, vedere tanti bambini fa sempre piacere perché loro sono veramente felici, li rendi veramente contenti con un po', con un abbraccio, con un saluto e questo è l'aspetto veramente più bello, poi sicuramente in questo momento dove l'Atalanta sta facendo molto bene risulta tutto più semplice, tutto più allegro e questo fa piacere. È bello vedere l'Atalanta lì, in quella posizione di classifica, come ci siete arrivati? È molto bello, non ti nascondo che fa un certo effetto e devo dire che ci siamo passati attraverso tanto lavoro, veramente perché oltre a un lavoro fisico, degli allenamenti veramente duri nella ricerca della perfezione a livello tattico, anche a livello fisico ci siamo passati da un periodo negativo perché penso pochissime squadre nella storia recente sono riuscite a rialzarsi dopo un inizio così e noi l'abbiamo fatto addirittura togliendoci delle soddisfazioni incredibili, facendo una striscia positiva che neanche la Juventus, la Roma, squadre molto più attrezzate di noi sono riuscite a fare e questo ci rende contenti. Lo ripetete, lo dice il tecnico, ma è il campo che lo dice, questo è un gruppo, un gruppo coeso, un gruppo che magari ci sono anche i giocatori che sono meno impiegati, però quando vengono chiamati rispondono presente, pronti. Io credo che questa sia la forza di questo gruppo, questo è il mio terzo anno che sto qui e io devo dire che in questi tre anni ho sempre trovato un gruppo che è veramente stata la base della salvezza, il primo anno difficile con tutti i problemi, il cambio allenatore ci siamo salvati, il secondo anno abbiamo fatto un ottimo giro nell'andata, abbiamo avuto dei problemini ma poi abbiamo finito il campionato molto bene, quest'anno stiamo facendo qualcosa di incredibile e credo che la forza sia proprio il gruppo perché sa veramente lavorare con gli allenatori, non ci sono mai problemi, chi gioca, chi non gioca, anche i giocatori importanti che hanno una carriera alle spalle importante vengono messi dentro poco ma nonostante questo si rendono disponibili senza creare nessun problema, quindi credo sia questo il segreto, chi entra, chi ha a disposizione pochi minuti, chiunque dà il massimo e credo che i risultati stanno dimostrando questo.